bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi finalmente abbiamo delle novità per quanto riguarda la premiere del party royale che cosa vuol dire sappiamo quando ottenere le ali al neon sembrerebbe che la premiere arrivi questa domenica ovviamente non dimenticate che vi dirò tutto nel dettaglio nei video news ma voglio farvi vedere il trailer ci spostiamo un attimo super rapidi ragazzi nella nostra seconda schermata mi tolgo io che ho la faccia brutta tanto alziamo l'audio e questo è il trailer della fortnite premiere insomma ragazzi come ovviamente avete visto la qualità non era delle migliori ma finalmente è in arrivo quindi non perdiamoci le date che vi scriverò sia qua sia nei prossimi video sia su instagram spero che questo video ragazzi vi sia piaciuto vi ringrazio per averlo guardato un bel pollicione in su iscrivetevi al canale e a me mi trovate proprio adesso il live su twitch ciao 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 ciao